Ogni tipologia di marmo proposta viene presentata in due finiture di superficie. Con la superficie Luxe Plus uniamo la praticità di un prodotto in grass porcellanato e di un prodotto ceramico che rispetto agli standard qualitativi dei prodotti lappati presenta un grado di brillantezza anche superiore rispetto alla media. Quindi una superficie lucida a campo pieno, una superficie molto ricca ma anche più facile da pulire. Con il sablé andiamo invece a proporre l'effetto marmo anche in contesti dove solitamente non avremmo pensato a questo tipo di materiale perché la superficie sablé che appunto ricorda la sabbiatura è una superficie molto calda che trasferisce una sensazione di accoglienza differente rispetto a quella della versione Luxe. La gamma Sensi al momento parte dal formato 60x120, comprende il 30x120 e il 60x60. Oltre ad un 30x60 tutti questi formati disponibili nelle doppie finiture Luxe e sablé. In più solo nella finitura Luxe ha anche il formato 10x30. Iniziamo con il Pietra Grey, quindi un marmo di colore scuro molto elegante. Per continuare con un marmo particolare che aggiunge un tocco diciamo di carattere a questa gamma Arabesque Silver. Continuando con il classico e intramontabile statuario White. E per concludere con due colorazioni più calde che sono Sahara Cream e Calacatta Select. Iniziamo la carrellata dei marmi con Pietra Grey, che si distingue per questa assoluta eleganza data dal contrasto tra il colorazione scura e questa vena molto chiara, tra l'altro tecnicamente molto difficile da riprodurre in ceramica. Proponiamo anche il mix di superfici. È molto interessante su questa versione colore proprio creare delle pose che miscelano anche la superficie sablé con la superficie Luxe Plus. Ed ecco il nostro statuario White, il marmo diciamo più vicino anche all'esigenza dell'architettura, infatti proposto anche all'interno del nostro catalogo in ambienti di concezione anche molto moderna. Interessante anche, vi faccio notare, in abbinamento alla superficie sablé, su statuario White, così come su Calacatta e su Sahara Cream. Su queste tre marmi appunto abbiamo anche la versione Fill, 30x120 sempre in grass porcellanato, adatta alla costruire delle pareti ad effetto 3D. E continuiamo con Arabesque Silver, che si chiama in questo modo perché prende spunto dalla varietà di marmo orobico arabescato, un marmo che dà un certo carattere all'intero progetto Sensi, sviluppato in questa colorazione grigia ma con questo tono grigio caldo, che permette a questo marmo, a seconda anche della superficie, qui vediamo sempre la versione sablé e la versione Luxe Plus, di essere abbinato anche ad altre tipologie, come ad esempio il Calacatta oppure il Pietra Grey. E perché no anche per abbinamenti in crossover con altri prodotti ABK, come ad esempio un prodotto moderno interno 9 Pearl, oppure con i nostri legni. E veniamo alle tonalità più calde, Calacatta Select, quindi una venatura di colore più caldo, che noi abbiamo ad esempio proposto molto bene anche in sinergia con gli effetti legno. Quindi un materiale che diventa interessante per una progettazione coordinata in un ambito magari di bagno, come in questo caso, anche in un contesto più elegante, quindi superficie Luxe, in questo caso un 10x30 a Boiserie, abbinato con un legno più elegante, come può essere il nostro Soleras. Nel caso della superficie sablé, vi faccio notare come la conformazione di queste vene più a contrasto con il fondo, fa sì che Calacatta Select sia uno dei marmi dove maggiormente notiamo la lavorazione del lucido a incastro con la grafica del prodotto, per quello che riguarda appunto la superficie sablé. Ecco infine con Sarah Cream, siamo andati a rinnovare l'estetica dei classici marmi crema marfil. In che modo? Innanzitutto attraverso la grafica. è ottenuta scansionando particolari di marmi pulpis, quindi marmi con venature più sottili, più dinamiche, più contemporanei, però portati a una tonalità di beige assolutamente attuale, quindi un beige che non è giallo, è un beige che può essere accostato anche nell'arredo, molto bene con i grigi, con il total white, con il gusto dell'abitare di oggi. La serie Sensi prevede anche un programma di decorazioni, pensate soprattutto per realizzare gli ambienti bagno, specifico sia per la superficie Luxe Plus che per la superficie sablé. L'idea del mosaico decorativo, che può essere composto a piacere creando forme diverse, ci permette anche di ricostruire in parete l'effetto spina di pesce molto di tendenza. Il mosaico Chevron, la proposta che insieme al mosaico a quadretti più tradizionale, è stata pensata invece per decorare la superficie sablé. Oltre al discorso dei mosaici, non mancano anche gli stelli ed elementi di finitura, l'effetto dorato abbinato al marmo, con una grafica comunque del tutto geometrica e contemporanea, per poter fare una proposta decorativa sia a tono su tono, come in sul calacatta, oppure a contrasto bianco e nero con pietra grey e statuario.